Uno dei ricordi che porto dentro di me della Coppa scorsa, il giorno della finale, quando eravamo sul palco della prima azione, era accanto al nostro dimoniere Francesco Bruni. I neozelandesi stavano festeggiando e sulla nostra pelle ci arrivavano gli schizzi dello champagne. Mi sono girato verso Checco e gli ho detto Checco, ricorda di questo odore, perché sarà la forza per la prossima campagna. Mi chiamo Romano Battisti, faccio parte del sailing team di Luna Rossa. Il mio ruolo in barca è come cycler e il mio numero è il 21. Io sono un ex atleta di canottaggio, ho partecipato a due Olimpiadi vincendo la medaglia d'argento a Londra 2012 a pochi secondi dalla Nuova Zelanda. Questa voglia di sfida mi è rimasta ancora dentro da quel giorno. La cosa che mi ha insegnato il mio sport è che se l'obiettivo è grande, l'impegno deve essere grande. Ho deciso di lasciare il canottaggio nel 2018. Mi sono proposta al team e Max Sirena mi ha accolto a braccia aperte. Nella scorsa campagna ho imparato che durante la Coppa America, prima di andare a casa, bisogna passare per ogni dipartimento a chiedere se è rimasta qualcosa da fare. Perché anche spazzare per terra e mandare via mezz'ora prima uno dei ragazzi che lavorano in un altro dipartimento, questo li permette di stare a casa mezz'ora in più con la famiglia. Finalmente siamo arrivati vicini ai nostri avversari, erano anni che aspettavamo questo momento. A noi come gruppo, ma a me personalmente, ci serve perché iniziamo a fare un po' di adrenalina, preparati a lavorare con tantissima tensione e moltissimo stress addosso, perché anche i nostri avversari lo avranno e lì faremo la differenza. Ogni giorno sono grato a mia moglie e alle mie figlie, perché ancora alla mia età mi lasciano fare quello che amo. Sentire le tue figlie che dicono papà, noi siamo di luna rossa, non apprezzo. Sentire le tue figlie che dicono,